In Italia i nuovi casi di tumore sono in calo ed è merito in gran parte dell'efficacia delle campagne di screening. L'adesione a queste campagne però è ancora insufficiente. Di questo tema e di come migliorare la situazione si è dibattuto qui a Roma al 21esimo congresso nazionale dell'IOM, l'Associazione Italiana di Oncologia Medica. Noi abbiamo colto l'occasione per parlarne con la professoressa Stefania Gori. Professoressa, perché sono importanti le campagne di screening? Allora, gli screening sono importanti perché determinano la diagnosi precoce di tumori del colon retto, della cervice uterina o della mammella, ma anche la diagnosi precoce di polipi e del colon che potrebbero poi negli anni trasformarsi in tumori e quindi sono importanti perché determinano una riduzione della mortalità per queste forme tumorali che è stata dimostrata in Italia, come noi riportiamo nei numeri del cancro 2019. A che punto siamo con l'adesione alle campagne di screening in Italia? Gli screening sono attivi in tutta Italia, ma l'adesione agli screening, a tutte e tre gli screening, è molto bassa rispetto alla media nazionale nelle regioni del sud e insulari. Questo potrebbe anche spiegare la ridotta sopravvivenza a cinque anni che noi registriamo nelle persone che hanno avuto un tumore globalmente nel sud e nelle isole rispetto a quanto avviene nel nord, a fronte invece di un aumentato numero di diagnosi di tumori maligni al nord rispetto al sud e ad isole. Ecco, voi come IOM in particolare che cosa chiedete alla politica per appunto migliorare la situazione di queste campagne? Dobbiamo cercare di sensibilizzare i cittadini italiani ad aderire agli screening grazie a campagne di adesione e sensibilizzazione che Fondazione IOM e da alcuni anni ad esempio sta conducendo con un progetto pilota in Sardegna e inoltre dobbiamo con le istituzioni vedere quali sono le modalità per incentivare l'apporto economico agli screening e incentivare anche un'organizzazione più capillare e col coinvolgimento del medico di base che permetta di arrivare al singolo cittadino.